questo libro che io ho curato e che parla di sacro sacro è questo come potete vedere le immagini coprì mano ma non ci vogliamo 30 giusti io che intai è un pittore malese il moderno di segni che si chiamava figure in tempo di crisi è chiaro che non si possono sempre approfondire tutti i periodi storici non No, non, non. Non ti preoccupare, perché ogni libro che apri c'è un mondo dentro, apri che esce molto la sala. Delle mie cose, che però non avevano avuto una loro... Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.